presentata la nuova giunta della regione marche sanità e infrastrutture acquaroli annuncia nuove leggi altri cento parcheggi si allarga la sosta al san decenzio sicurezza in autobus arrivano i controllori con la body cam rush finale al festival gad con omaggio a renata tebaldi buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è venerdì 28 ottobre apriamo questa edizione parlando di politica questa mattina infatti le telecamere di rossini tv si sono accese ad ancona perché a due anni dalla partenza del governo regionale di francesco acquaroli è ufficialmente iniziata una nuova fase della legislatura marchigiana di centrodestra dopo il recente rimpasto di metà della giunta tre assessori infatti hanno fatto le valigie per roma in direzione parlamento altri tre si sono insediati ad ancona e sono stati presentati proprio questa mattina venerdì 28 ottobre rossini tv presente oggi ad ancona presso la sede della regione marche per questa che è una data che di fatto contrassegna una ripartenza bis per la giunta regionale di francesco acquaroli a due anni e una settimana dall'inizio della legislatura si riparte con una nuova giunta una nuova squadra i nomi sono quelli ormai noti da settimane hanno lasciato la giunta regionale in direzione il Parlamento Mirco Carloni, Giorgia Latini e Guido Castelli sono stati sostituiti nell'ultima settimana proprio in settimana c'è stato il primo consiglio regionale alla loro presenza da tre nuovi assessori Andrea Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni tre nuovi assessori per un lavoro di continuità che ha a che fare con tante emergenze come ricordato anche il presidente Francesco Acquaroli che ha riunito l'intera squadra compresi anche gli assessori in carica da inizio legislatura ovvero Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli e Filippo Savalta Martini che tra l'altro è diventato vicepresidente della regione si riparte con tre nuovi assessori a cominciare da Goffredo Brandoni che diventa il nuovo assessore al bilancio dopo che da ex sindaco di Falconara proprio nel suo comune gestì un bilancio molto complesso ora un'avventura completamente diversa col bilancio di quasi 5 miliardi della regione marche il 78% dei 5 miliardi riguarda la sanità e la rimanente parte riguardano tutti gli altri assessorati, tutti gli altri servizi indubbiamente oltre a tutto questo, come dicevo, tagli della finanza pubblica che sono stati avviati da parte del governo centrale nei confronti degli enti locali in particolare comuni e regioni ma più che altro le calamità che ci sono capitate quella del terremoto del 2016, l'alluvione recentissima e in mezzo una pandemia una crisi energetica che ha ripercussioni su aziende e imprese purtroppo Da Brandoni ad Andrea Antonini che eredita ben 24 deleghe appartenenti all'assessorato di Mirko Carloni Le priorità sono quelle di cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che è in grande difficoltà per i problemi che purtroppo conosciamo tutti calamità naturali ma anche sanitarie, economiche quindi penso che la regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende quindi questa è la priorità Sulla energia credo che possiamo porre un'attenzione particolare proprio lo sviluppo energetico e credo che sia strategico del mio assessorato E poi le quote rosa rimbalzate da Giorgia Lattini a Chiara Biondi con l'assessorato all'istruzione alla pari opportunità e anche allo sport Per il discorso della cultura ovviamente portare avanti la candidatura dei teatri perché la nostra è la regione dei teatri poi per quello che riguarda ad esempio lo sport contiamo di portare sicuramente qui nelle marche delle importanti manifestazioni anche a livello internazionale in modo tale anche da far conoscere il nostro territorio stiamo lavorando anche sul terzo settore perché comunque anche questa è una delega importante volta in maniera particolare all'associazionismo e sappiamo perfettamente quanto è importante il ruolo che le associazioni svolgono nei nostri territori non meno importante l'istruzione proprio ieri ho avuto in confronto con il ministro e il neoministro Valditara dove soprattutto io ho fatto presente quelle che sono le criticità che il nostro sistema scolastico deve affrontare in maniera particolare il problema delle classi Pollaglio ma soprattutto un'applicazione troppo stringente di quelle che sono le norme del DPR 81 del 2009 che prevede in maniera particolare che per poter costituire delle classi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni numeriche purtroppo le marche nonostante siano previste delle deroghe appunto all'interno di questa normativa non sono per noi però favorevoli e quindi cercheremo di portare avanti con il ministro anche una certa apertura per concedere delle deroghe più importanti non solo nuovi assessori ma anche nuove leggi regionali in arrivo lo ha annunciato questa mattina il presidente Acquaroli annunciando importanti rinnovamenti legislativi in materia di sanità infrastrutture e urbanistica mattinata di presentazione della nuova giunta regionale delle Marche qui al palazzo della regione di Ancona tre nuovi assessori Chiara Biondi, Goffredo Brandoni e Andrea Antonini entrano a far parte della giunta Acquaroli al posto di Castelli, Giorgio Alattini e Mirko Carloni che sono approdati in Parlamento una mattinata non solo di presentazioni ma anche di rinnovo di impegni per il presidente Acquaroli che ha voluto ricordare quelle che sono le priorità di intervento alla luce del grave imprevisto dell'alluvione ma anche di quello di questo rimpasto politico che ha rallentato alcuni macro obiettivi dalle infrastrutture al piano sociosanitario a quello urbanistico Dopo la riforma delle aziende sanitarie arriverà il nuovo piano sociosanitario che sarà fatto alla luce degli studi di approfondimento sul fabbisogno e che ci potranno permettere una riorganizzazione una riprogrammazione che possa essere più equilibrata che sarà attenta a limitare la mobilità passiva e soprattutto a recuperare risorse per poter distribuire chiaramente questo avviene in un quadro dove l'emergenza sanitaria soprattutto per la carenza dei medici è un'emergenza elevatissima a livello nazionale noi stiamo lavorando con le borse sia per i medici specializzanti ospedalieri sia per i medici di medicina generale ma la mancata programmazione porta a un deficit che oggi vediamo che è un deficit molto pesante i risultati che vedremo rispetto a quelle che sono le borse che noi abbiamo messo in campo per i medici di medicina generale potranno essere tangibili entro i prossimi 12-24 mesi per i medici ospedalieri dovremmo aspettare di più certo è che nel frattempo la riorganizzazione e la creazione di strumenti, strutture diverse tipo quelle del territorio potranno portare a un approccio differente rispetto agli accessi dei servizi sanitari sulle altre riforme non solo quella del piano socio-sanitario c'è quella del piano delle infrastrutture la legge urbanistica che è la legge del governo del territorio tanto attesa perché l'ultima legge è stata varata nel 1990 e quindi a 30 anni di distanza con tutto lo sviluppo che si è visto sia resa non solo necessario ma indispensabile per consentire al nostro territorio uno sviluppo che sia in linea con i standard attuali Ma naturalmente l'alluvione resta un tema pressante in agenda che viene rinnovato di impegno anche alla luce del nuovo governo entrante di Giorgia Meloni La prima cosa che chiediamo è una risposta chiara è in maniera inequivocabile rispetto al tema dell'alluvione noi vogliamo poter dare delle certezze e vogliamo poter dare sia in termini di azioni da mettere in campo sia in termini anche di risorse da mettere rispetto a quelli che sono i danni subiti dai privati dagli imprese e da tutti i comuni Credo che questa risposta sia una risposta che è indispensabile per ridare credibilità alle istituzioni perché purtroppo queste popolazioni aspettano ancora risposte dal 2014 Torniamo a occuparci di Covid-19 perché il report settimanale delle marche registra un calo di contagi sul territorio regionale del 21% rispetto alla settimana precedente una buona notizia che viene però controbilanciata dall'attenzione sul primo caso registrato nelle marche della nuova variante denominata Cerberus la cui diagnosi è stata ufficializzata proprio nella giornata di oggi Ed ora ci spostiamo a Pesaro dove il parcheggio San Decenzio si allarga di altri 104 posti auto Questo intervento, il terzo negli ultimi sette mesi condotto dal comune è volto a creare un'ulteriore comodità a chi si recherà al cimitero e al mercato del martedì Vediamo il servizio Il parcheggio San Decenzio utilizzato per la maggior parte dai frequentatori del mercato dai lavoratori per raggiungere il centro storico e da chi si reca al cimitero si allarga di altri 104 posti auto di cui 5 per persone disabili L'area utilizzata per questo intervento condotto dal comune di Pesaro riguarda lo spazio a fianco del cimitero che permetterà a tutti gli usufruitori di parcheggiare gratuitamente Un'operazione che però non può dirsi conclusa visto che l'intenzione dell'amministrazione è quella di portare il nuovo parcheggio a 250 posti auto complessivi nei primi mesi del 2023 regalando così alla città e ai suoi abitanti il terzo grande parcheggio gratuito nel giro di 7 mesi È un parcheggio per il mercato importante un parcheggio per il cimitero ed è un parcheggio che va a rafforzare ulteriormente la politica di sosta della città con parcheggi scambiatori gratuiti a pochi minuti a piedi dal centro questo con il San Decenzio quello del Cavalca Ferrovia due in verità lì sono i parcheggi quello che metteremo a posto che è già utilizzato ma che metteremo a posto dietro la caserma militare in via dell'Acquedotto e quello che abbiamo realizzato in fondo Viale Trieste sono tutti i parcheggi scambiatori gratuiti per la sosta lunga a pochi metri dal mare e dal centro Un'operazione complicata anche dal punto di vista burocratico quella condotta in questi mesi per poterla portare a termine Qui è stata spostata un'attività con inerti materiale edile che non era adeguata a stare in questo luogo per la polvere che creava piuttosto che altro in una trattativa importante con Prioli e con la realizzazione di una nuova attività che oggi è diventata Tecnovood lungo gli interquartieri un'attività che è accettato di essere un punto anche del nostro percorso di street art e quindi diciamo non solo una bella attività che lavora tanto ma anche un'attività bella grazie all'aver accolto appunto un artista che ha dipinto le pareti rendendola anche molto bella come biglietto da visita all'ingresso della nostra città San Deccenzi è un parcheggio che quando è stato inaugurato era un parcheggio che dava risposte a poche decine di auto e che oggi invece diventa un parcheggio fondamentale per tutti coloro che diciamo vanno in centro che lavorano in centro ed è un parcheggio questo a disposizione anche di rafforza diciamo consente alla sosta anche nei giorni del mercato cittadino quindi importante nelle giornate del martedì oltre che ovviamente per tutti coloro che vengono a trovare i propri cari al cimitero lo facciamo a ridosso delle festività dei santi e dei morti è un parcheggio che la cui storia parte molto da lontano e che oggi ha avuto un'accelerazione da febbraio grazie anche alla disponibilità la collaborazione di tanti soggetti che si sono impegnati a rispettare un impegno preso con l'amministrazione che vedeva la realizzazione di questo parcheggio per 700.000 euro di lavori in cambio di un'area del comune quindi i ringraziamenti vanno assolutamente fatti alla FME ai titolari dell'area alla Technovul a Marche Multiservizi ad Aspes e anche a Fiorai stessi e tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato per oggi aprire questo parcheggio importante per la città soddisfatto dell'allargamento del parcheggio di San Decenzio anche il responsabile del mercato di Pesaro Valerio Tamburini che vede concretizzarsi una richiesta da lui inoltrata da oltre 12 anni la gente il martedì non sa mai dove mettere la macchina e questi 109 posti daranno una grande soddisfazione soprattutto alla gente di Pesaro oggi ricorre l'anniversario della marcia su Roma e al campus scolastico di Pesaro delle 5 torri è apparso questo striscione di ispirazione fascista che vi stiamo mostrando striscione che è stato condannato dal sindaco Matteo Ricci che ne ha ordinato la rimozione come pubblicato sui canali social del primo cittadino cambiamo ancora argomento perché dal 1 novembre i controllori dell'azienda del trasporto pubblico locale AMI saliranno a bordo dei mezzi dotati di bodycam ovvero videocamere individuali che costituiranno uno strumento di maggiore sicurezza agli operatori le bodycam costituiranno un supporto per il personale dell'azienda nei casi di contestazione e saranno un deterrente per chi fosse intenzionato a danneggiare i mezzi di trasporto o a creare molesti ad altri passeggeri a bordo Nella giornata di ieri il comune di Vallefogli ha preso parte ai festeggiamenti dei cento anni di Almerino Pedini cittadino Montechiese che ha compiuto un secolo martedì scorso il sindaco Ucchielli ha portato gli auguri di tutta la città al festeggiato che nella sua lunga vita ha svolto sempre l'attività di coltivatore diretto commerciando frutta fresca e lavorando nei suoi terreni in via Arena Dopo il taglio del nastro di domenica scorsa che avete potuto vedere e seguire su Rossini TV la 57esima Fiera del Tartufo di Aqualagna si tuffa nel lungo ponte di Ogni Santi con quattro giorni di fiera da domani fino a martedì primo novembre all'insegna di tanti eventi alla presenza di chef rinomati e di ospiti come Raffa e il Gualazzi che domenica alle 19 si esibirà al Teatro Conti insieme ad altri cento musicisti nella maratona di 12 ore di concerti il cui ricavato sarà devoluto al comune alluvionato di Cantiano per ripristinare il danneggiato centro teatrale Capponi quattro giorni di tartufo musica solidarietà e tanti cooking show che si alterneranno con chef come Pierpaolo Ferracuti Max Mariola Nikita Sergev e Antonio Ciotola e si chiude il 75esimo Festival GAD con gli ultimi due spettacoli in concorso al Teatro Sperimentale di Pesaro questa sera alle 21 la compagnia teatrale bresciana La Betulla proporrà il gioco delle parti di Pirandello per la regia di Bruno Frusca ultimo spettacolo in concorso domani alle 21 con la compagnia teatrale leccese Calandra che metterà in scena Don Quixote e Sancho Panza di Cervantes per la regia di Giuseppe Vigiano La cerimonia di premiazione del festival si terrà domenica alle 10 sempre allo sperimentale e sarà seguita da Rossini TV cerimonia che vi mostreremo lunedì nel nostro telegiornale ma anche nello speciale televisivo che potrete vedere venerdì 4 novembre alle ore 21 e 20 Festival GAD che però non finisce con le premiazioni a calare il sipario sarà piuttosto uno spettacolo concerto in omaggio alla cantante lirica Renata Tebaldi in occasione del centenario dalla sua nascita vediamo il servizio l'appuntamento è domenica 30 ottobre alle 21 al teatro sperimentale sarà lo spettacolo conclusivo del 75esimo Festival GAD di Pesaro il nostro è uno spettacolo fuori concorso appositamente ideato da Orchestra Olimpia per il centenario dalla nascita di Renata Tebaldi noi la racconteremo attraverso le persone che l'hanno accompagnata nella sua vita da sua mamma alla sua fedelissima governante Tina Viganò a Elsa Maxwell e i registi direttori d'orchestra che l'hanno incontrata e raccontando dall'infanzia fino a insomma non fino alla fine ma fino a un epilogo che racconta di una donna che ha vissuto una vita moderna in un'epoca non odierna avremo anche la presenza di una cantante che presterà la sua voce e il ritorno di Valentina Mastrangelo a Pesaro che debutò nel 2013 con Il Viaggio a Reims quindi teatro musica e canto Orchestra Olimpia sarà la colonna sonora di questo spettacolo diretta come sempre dalla nostra direttrice stabile cofondatrice Francesca Perrotta la protagonista è Clio Gaudenzi che è anche autrice dei testi e della regia insieme ad Alfredo Corno il festival non ha voluto dimenticare anzi ha voluto ricordare in un modo direi molto importante molto significativo questa grande cantante che insieme alla Callas ha segnato il panorama della vita culturale della lirica italiana e non solo è un evento significativo perché lo facciamo anche in collaborazione con l'Orchestro Olimpia è una cosa diversa in cui si unisce sia la prosa che la musica proprio a conclusione di un festival che ormai siamo arrivati quasi alla fine voglio battezzare come un festival molto importante i 75 anni del festival anche con questo evento collaterale molto significativo ha dato lustro alla celebrazione di queste nozze di diamante delle GAD e del teatro con la città di Pesaro da cui è nato nel 48 domani alle 16.30 presso la caffetteria libreria Ali D'Angelo di Rimini Davide Pagnini presenterà il suo libro il diario del destino pubblicato dalla casa editrice L'Erudita Ad intervistarlo sarà Alice Spagnoli titolare del locale riminese le immagini che vi mostriamo si riferiscono all'anteprima della presentazione girata da Rossini TV lo scorso febbraio e che potete ancora rivedere attraverso il nostro sito e il nostro canale YouTube e sempre su Rossini TV sta per partire una nuova stagione di Check Up Obiettivo Salute il programma realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center ripartirà infatti lunedì 31 ottobre alle 21.20 il suo curatore Antonio Astuti ci illustra qualche anticipazione di quello che sarà un appuntamento fisso di tutti i lunedì sera su Rossini TV lunedì 31 ottobre alle 21.20 ripartirà la seconda stagione di Check Up Obiettivo Salute un appuntamento interessantissimo realizzato da Rossini TV grazie alla collaborazione con Fisioradi Medical Center di cosa si tratta? si tratta di incontri staremo insieme diversi mesi incontri tutti i lunedì sera con medici fisioterapisti che collaborano con la struttura di Vismara e affronteremo ogni volta dei temi di salute davvero molto interessanti soprattutto spiegati in maniera molto semplice fruibile da tutti perché la salute come sappiamo è alla base di un benessere sociale di un benessere personale fondamentale per tutti noi quindi riuscire a capire come stare meglio è sicuramente molto molto importante e siamo alla vigilia di un intenso weekend di sport visto che WL Ital Service e Vispesaro scenderanno in campo tutte nella giornata di domani e tutte e tre in trasferta la WL senza l'infortunato Tambone e di fatto con solo otto giocatori disponibili prova a rialzarsi da due sconfitte nella complessa partita di Brescia che si giocherà alle 20.30 anche l'Ital Service sconfitta domenica Napoli e mercoledì a Pescara in Coppa Divisione cerca di ripartire domani alle 18 in casa della neopromossa Pomezia match complicatissimo per la Vispesaro che alle 17.30 andrà a far visita alla Reggiana terza in classifica Vis che come vedete da queste immagini proprio oggi ha visto andare sotto i ferri il centrocampista Marcandella operato a Cotignola al legamento crociato del ginocchio dal professor Raul Zini passando alla domenica dopo un weekend di pausa riparte la Serie A di rugby con la Fiorini Pesaro reduce da due vittorie che alle 15 ospiterà Livorno nella terza partita consecutiva giocata al Totti Patrignani di Muraglia partita che vi ricordiamo potrete rivedere in esclusiva su Rossini TV lunedì alle 22 domenica a Urbino gioca anche la Megabox Vallefoglia che dopo la sconfitta di mercoledì a Scandicci affronta alle 17 un'altra big del campionato come Conegliano e allora davvero un weekend di partite importantissimi per le nostre squadre locali ma andiamo a vedere quella che sarà la serata di Rossini TV questa sera parleremo di un evento che è stato veramente molto importante e si chiama Medicina Personalizzata una nuova strategia terapeutica abbiamo seguito noi questo evento che è stato organizzato dall'associazione 50 e più di Confcommercio in collaborazione con Terziario Donna l'appuntamento è alle 21.20 e poi domani il nostro Antonio Astuti lo vedrete pronto in diretta alle 7.20 sul canale 80 e chiaramente anche sulla nostra diretta nella pagina Facebook e sabato quindi domani una nuova puntata di Ui Pesaro TV questo approfondimento dedicato alle iniziative del Comune di Pesaro che vi consigliamo di seguire per essere aggiornati su tutte le novità domani l'ospite sarà l'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi quindi appuntamento domani alle 13.30 e poi ricordatevi anche di seguirlo se volete nelle repliche e poi lunedì come abbiamo anticipato in questa edizione del nostro telegiornale torna una nuova edizione di CECAP Obiettivo Salute un programma che vi è piaciuto e vi sta piacendo tantissimo un approfondimento medico molto interessante condotto da Antonio Astuti con tanti professori e medici che ogni puntata tratteranno una certa problematica o patologia quindi l'appuntamento è tutti lunedì alle 21.20 ho detto davvero tutto carissimi amici buon weekend buon ponte Rossini TV continua ad essere sempre presente con voi quindi l'appuntamento con l'informazione torna domani con la nostra rassegna stampa e poi il telegiornale e la rassegna stampa il lunedì 31 ottobre grazie mille e buona serata grazie mille